Buonasera e benvenuti al Tg Sicilia, subito le notizie principali di oggi. 100 euro per riparare una protesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. In manette tre sanitari dell'ASP di Palermo denunciati da una 89enne. Per i tre indagati è scattata anche la sospensione per un anno dall'incarico. Casa Postolico, sulle voci incontrollate di un'ispezione disposta dal Ministero, interviene il guardasigilli. Non si tratta di un accertamento ispettivo né tantomeno dell'avvio di un'azione disciplinare. Caro Presidente Mattarella, venga dagli ultimi di Ballarò, appello delle associazioni che lottano contro spaccio e degrado nel quartiere, al Presidente che domani sarà a Palermo per l'inaugurazione del molo trapezoidale. Approvvigionamenti a rischio nelle isole minori, l'allarme dei sindaci dopo l'annuncio di Caronte e il turiste di non poter garantire tutti i collegamenti a causa del sequestro delle navi. Emergenza di scariche abusive. A Catania cittadini esasperati per le montagne di spazzatura nella zona del cimitero. A Siracusa rifiuti anche a due passi dal tribunale. E poi il calcio. Messina bloccato in casa dalla Casertana e resta nella parte bassa della classifica. Il Catania punta la Juve Stabia per riscattare l'opaca prestazione con il Latina. Divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri. Cento euro per riparare protesi. Arrestati tre sanitari dell'ASP di Palermo. Odontoiatra, odontotecnico e infermiere sono accusati di concussione. A denunciarli un'anziana paziente. Marco Gullà. Hanno preteso il pagamento di cento euro da una donna di 89 anni per ripararle la protesi accidentaria. Una prestazione sanitaria che la donna avrebbe dovuto ottenere gratuitamente. Per questo un odontoiatra, un odontotecnico e un infermiere dell'ASP di Palermo sono stati arrestati e messi ai domiciliari dai carabinieri della stazione di Mezzo Monreale in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP su richiesta della procura di Palermo. I carabinieri avevano organizzato la trappola. Hanno fotocopiato le banconote e quando l'anziana le ha consegnate sono intervenuti per bloccare i tre sanitari. Così il 26 luglio scorso i carabinieri ritengono di avere raccolto la prova chiave della concussione che è costata gli arresti domiciliari ai tre indagati. Le cure dovevano essere gratuite per esenzione e invece all'anziana sarebbero stati chiesti soldi senza ricevuta da consegnare all'esterno della struttura sanitaria per la precisione vicino al pannellaro. L'anziana è stata al gioco ma aveva già raccontato tutto al figlio così è scattata la denuncia ed è stato predisposto un servizio di osservazione. È stata lei a raccontare ai militari che quel pagamento in contanti senza ricevuta e fuori dai locali dell'ASP non la convincevano. Mi sono sempre rivolta all'ASP e non ho mai pagato ha detto. L'ASP di Palermo si costituirà parte civile se le accuse dovessero essere confermate ci torneremmo di fronte ad un aberrante sistema di malaffare ha detto il commissario straordinario dell'azienda sanitaria Daniela Faraoni. Saranno attivati immediatamente i procedimenti disciplinari del caso riservandoci di agire in tutte le sedi competenti. Polemiche senza fine a Catania all'indomani del secondo provvedimento del giudice apostolico che dice no al trattenimento di altri quattro migranti tornando a contestare la legittimità del decreto cutro. Voci incontrollate di una ispezione disposta dal Ministero ma il Ministro Nordio smentisce e precisa. Sentiamo. Non ci sarà nessuna ispezione al Tribunale di Catania né alcun provvedimento è stato richiesto nei confronti del giudice Yolanda Apostolico. La precisazione arriva da Ministeri e CSM dopo la diffusione di notizie in questo senso. A seguito di quattro interrogazioni parlamentari essendo doveroso rispondere ho dato mandato alle articolazioni competenti del Ministero di Acquisire articoli di stampa e pubblicazioni sui social media relativi al giudice di Catania di Yolanda Apostolico. Non si tratta di un accertamento ispettivo né tantomeno dell'avvio di un'azione disciplinare, precisa il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Parimenti nessuno ha richiesto l'avvio di una indagine sul giudice al CSM che è stato invece investito da 13 giudici togati di Catania della questione di protezione del magistrato. All'indomani del secondo provvedimento con il quale la giudice respinge il trattenimento di altri quattro migranti continuano dunque le polemiche tese a portare l'attenzione su temi diversi dallo scontro giudiziario sulla legittimità del decreto cutro e dallo scontro politico sulla partecipazione del giudice nel 2018 ad una manifestazione contro il Ministro Salvini al porto di Catania. Intanto il Ministro dell'Interno Piente Dosi torna a ribadire che la vicenda del video è all'attenzione della procura mentre l'avvocato del carabiniere indicato come l'autore nega che questi abbia mai confessato. Il mio assistito non ha confessato nulla e di conseguenza non può aver ritrattato, dice l'avvocato Cristian Petrina. Ieri il sindacato dell'Arma Sim aveva smentito che un militare avesse confessato di aver girato il filmato. Peraltro spiega Petrina, esperto di diritto militare, in questi casi ci sono delle procedure previste dalla normativa militare da seguire e invece non ci sarebbe alcuna relazione di servizio sulla vicenda. Domani le autopsie sui corpi di Salvatore Roberto Scammac, 47 anni, ucciso a colpi di pistola il 10 ottobre a Valguarnera e dinunzia Arena, 86 anni, morta dopo essere stata investita dall'auto della vittima subito dopo l'uccisione. Le forze dell'ordine in queste ore cercano Guglielmo Ruisi, 51 anni, imprenditore edile, fuggito subito dopo l'omicidio. Ruisi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe voluto vendicarsi di un'aggressione verbale subita dal figlio proprio da Scammacca nei giorni precedenti all'omicidio. Caro Presidente Mattarella, venga a Ballarò. È l'appello delle associazioni che lottano per la tutela del quartiere palermitano che annega tra rifiuti e spaccio di crack e constatare di persona i tanti disagi dei residenti. Marco Gullà. Gentile Presidente Sergio Mattarella, le scriviamo questa lettera aperta a nome dell'Assemblea. Dio S.O.S. Ballarò. Inizia così la missiva che il comitato che da anni lotta per la tutela di Ballarò ha scritto al Presidente della Repubblica che domani sarà a Palermo per l'inaugurazione del nuovo molo trapezoidale al porto. Uno spazio per l'attracco di yacht. A meno di un chilometro dal porto però, nel quartiere Ballarò, lo scenario è quello che vediamo nelle immagini dei rifiuti ai veicoli che sono ormai la casa dei dipendenti di crack. Qui si muore. Nella lettera del comitato si invita il Presidente Mattarella a visitare appunto Ballarò. Come a Palermo si riesce a fare lustro per accogliere yacht di lusso, turisti internazionali, ed è una cosa a cui noi naturalmente teniamo l'accoglienza per tutti e tutte. Vorremmo far capire che in questo momento comunque ci sono quartieri che subiscono dei grandi disagi. Disaggi che si portano avanti da anni e purtroppo molto spesso non si viene ascoltato. Dal crack ai rifiuti che invadono il quartiere incontriamo anche un residente di Ballarò e alla domanda cosa direbbe in questo momento al Presidente Mattarella questa è la risposta. Presidente Mattarella voglio dire soltanto una cosa. Anziché di andare a fare le visite in via Maccheda, ai porti, l'unica cosa è che l'accoglieremo anche noi di venire in questo quartiere perché siamo molto disagiati. Manca tutto, manca dopo scuola per i bambini, io faccio catechista, li teniamo noi stretti ai bambini perché purtroppo questo è quartiere. Nessuno ci ascolta, una lettera, nessuno, niente, fanno finta di niente. Gli chiederei soltanto una cosa, di farsi il giro con me solo, senza ascoltare io e lui, tutti e due a braccetto come il nipote e il nonno. Faremmo il giro e gli farei vedere io come siamo in questo quartiere. Da anni chiediamo che lo Stato faccia la propria parte, questo un altro passaggio della lettera indirizzata al Presidente Mattarella. La politica secondo lei si è un po' dimenticata di questo quartiere, sorella? Allora, io non posso dire che si è dimenticata ma che non sia tanto presente, è un fatto. È un fatto. Sai, si mettono in vista le cose belle, più che, e io credo che dovrebbero essere un po' più vicine, perché queste persone sono nostri fratelli e sorelle e ce li abbiamo qui a portata di mano. E penso che sarebbe una cosa bellissima se il Presidente venisse a incontrare anche queste persone, perché loro sono in Italia, sono italiani, sono la nostra gente. Un ventenne sfuggito ieri all'operazione Malerba dei carabinieri di Catania contro un'organizzazione che gestiva lo spaccio a San Giovanni Galermo è stato arrestato a Librino. Il giovane era destinatario di un'ordinanza per i minorenni, perché all'epoca dei fatti non era ancora maggiorenne. Il ventenne è indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione Malerba ha azzerato la rete di pusher, di cocaina e marijuana che è crack, vendute in quattro piazze di spaccio in via Capo Passero. Subito riuniti oggi sindaci delle isole minore siciliane dopo la notizia che Caronte Entiuris ha rinunciato a svolgere il servizio. C'è preoccupazione soprattutto per i rifornimenti di merci. Francesco Triolo. È di nuovo caos per i collegamenti tra la Sicilia e le isole minore. La preoccupazione dei residenti è tanta. A rischio ci sono i rifornimenti di merci, gas, gasolio, benzina, derrate alimentari, medicinali. Caronte Turist ha comunicato ieri pomeriggio alla Regione la decisione di non effettuare i collegamenti. Allo stato attuale, ha scritto alla società, è impossibile assumere nuovi impegni contrattuali e proseguire il servizio. Poche parole per declinare l'invito dell'assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità, di garantire i trasporti con le isole minori, eoli, ega, di usti che pantelleria come estensione della convenzione col Ministero dei Trasporti. Una decisione figlia della risoluzione anticipata per impossibilità sopravvenuta dei contratti con la Regione dallo scorso maggio. La compagnia armatoriale sottolinea come ad impedire l'assunzione di nuovi impegni in una situazione comunque delicata e complessa. È stata un'ulteriore iniziativa della Guardia di Finanza d'Intesa con il pubblico Ministero che ha disposto il fermo delle navi, che ha visto sequestrare un'ulteriore somma di denaro di 2 milioni e 800 mila euro che la Regione si accingeva a pagare all'azienda messinese per i servizi resi nel secondo trimestre del 2023, per i lotti relativi a pantelleria e alle pelagie non interessate dal procedimento penale, al contempo liberando l'equivalente valore di una delle navi sequestrate, Elga, Ulisse e Brigi, il cui utilizzo è rimasto comunque inibito. L'istanza è stata respinta dal GIP il 9 ottobre e ciò ha determinato, scrivono ancora agli amministratori di caronte e turisti di isole minori una situazione di incertezza circa gli sviluppi del sequestro che impedisce di svolgere il doveroso monitoraggio sull'andamento economico finanziato dell'impresa e adottare le decisioni gestionali imposte dalla normativa e dal dovere di diligenza e prudenza. Sino al 31 marzo quindi restano garantiti solo i collegamenti del Bando Nazionale, 6 corse per le pelagie, 2 alla settimana per tutte le isole e olie, 4 sino ad Alicuti, 2 sino a Stromboli, 6 sino a Salina, 6 le corse tra Palermo e Ustica e 6 da Trapani a Pantelleria. E intanto stamattina i sindaci delle isole minori hanno fatto il punto della situazione nel corso di una videoconferenza per decidere anche quali azioni intraprendere. E appunto i sindaci delle isole minori siciliane, Ustica e Olie, Egadi, Pelagie e Pantelleria chiedono l'intervento dei governi nazionale e regionale per ripristinare in tempi celeri i collegamenti marittimi integrativi interrotti da ieri a seguito della rinuncia della compagnia Caronte e Turist. Quanto sta accadendo proseguono i sindaci, crea situazione di disagio e incertezza tra la popolazione locale che subisce ritardi nell'approvvigionamento dei generi di prima necessità. Parliamo di Catania sporca, oggi vi mostriamo il degrado in via Calliepo e via la regione siciliana dove i cittadini esasperati lanciano un grido d'allarme. Tonino De Mana Ad osservarla da lontano sembra una discarica ed invece una strada, tra l'altro impercorribile perché invasa da rifiuti, mobili, divani, scarti edili, elettrodomestici e l'immancabile Eternit. Una delle zone franche di Catania è via Calliope dove ogni angolo è utile per scaricare spazzature e non solo. Decine le segnalazioni che arrivano al nostro numero di Whatsapp 3427455005 e che sono concentrate in questo tratto di strada che costegge il cimitero. Questo cartello l'ho messo io per evitare di fargli buttare la spazzatura alle persone. Ed invece? È servito poco perché alla fine i risultati sono sempre questi. Nonostante io abbia preso i bidoni al comune e mi sono registrata per fare la raccolta differenziata un bidone mi è stato rubato, quello dell'umido, con tutta la catena legata al mio cancello di casa e nonostante ciò non mi vengono a prendere la spazzatura. Io rimango con la spazzatura davanti casa, io non so più che cosa fare, a chi rivolgermi. Ho fatto tante segnalazioni, tante denunce, ma nessuno viene a raccogliere la spazzatura davanti casa mia. Qualcuno l'ha definita zona franca, eppure da queste parti ci sono le telecamere fatte installare dal comune ma che anche queste non funzionano. Nessun segnale arriva alla centrale della polizia municipale e mai arriverà se non verrà superato un intoppo burocratico che a quanto pare risale al commissariamento del comune di Catania. Noi abitiamo lì, in Viale della Regione, quest'estate ha preso tutto a fuoco, la spazzatura non se ne può più perché noi paghiamo, vengono persone da fuori e buttano la spazzatura, non dico solo spazzatura ma anche mobili di ogni genere. Alle sue spalle c'è di tutto, non c'è solo spazzatura ma c'è materassi, televisori, divani, materiale edile, Eternit, soprattutto Eternit, che è altamente cancerogeno. Sì, sì, questo sì, anche da noi lo buttano, anche da noi, però non sappiamo chi è, perché ci vogliono le telecamere. In realtà la telecamera davanti a lei c'è, però non è funzionante. Non funziona. Via Calliope si può considerare una strada secondaria, ma basta girare l'angolo e si arriva in Viale Regione Siciliana, decisamente più grande e trafficata, ugualmente sporca e deturpata. E a Siracusa abbiamo fatto un giro tra le discariche abusive nel rione Santa Panagia. Tante le segnalazioni dei residenti stanchi di questa situazione. Rifiuti anche a due passi dal Tribunale. Francesco Aloi. Partiere che vai, discarica abusiva che trovi. Qui siamo nel popoloso rione Santa Panagia, Siracusa. Nemmeno il vicinissimo palazzo di giustizia spaventa gli incivili. Tra i rifiuti ci sono pezzi di auto, ma anche un albero di Natale. Situazione simile anche in via Ramacca, nello stesso rione. Questa è una discarica fatta apposta per la gente che viene dall'altra parte a buttare le cose qua. C'è di tutto in effetti. Ma voglio, guarda che c'è. Non lo so, qua c'è una fuoco, succede un danno, sicuramente. Qualcuno ha rinnovato case ed ha pensato di abbandonare qui il vecchio arredamento. Troviamo di tutto, gli immancabili materassi ed anche qualche televisore. Chi abita qui è stanco di vivere in questo degrado. Non se ne può più, tutti vengono e buttano tutte spazzature, anche che non siano dalla zona. Vi avete richiamati? Sì, sì, ma parlando con voi ci rispondono anche male. L'abbandono è visibile anche lungo i marciapiedi. Mancanza di pulizia ed erbacce sono molto evidenti. Camminando ci mettiamo i piedi sulla sporcizia veramente dei cagnolini, che nessuno le pulisce. E poi tutte le bacce, tutte le bughe, ci sono una sbadatamente che può mettere il piede male e si può fare un danno. Non è una cosa bella da vedere e da vivere, più che altro. Spostandoci un po', ma restando sempre a Santa Panagia, troviamo questi contenitori per la raccolta degli indumenti usati. Nulla di strano se attorno non fossero ricoperti da rifiuti di ogni genere, anche copertoni di auto. Si fermano, rallentano con la macchina, buttano il sacchetto, ma a due passi qua c'è l'isola ecologica, ma andate a buttare lì. È la pratica che qui, come in altri quartieri ed in altre città, usano in molti, naturalmente tra gli incivili. Ed è così che in via Cireale, tra i cumuli, troviamo anche una sedia a rotelle. A microfoni spenti, i residenti chiedono fototrappole. Gli incivili vanno puniti, precisano. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia. Adesso il calcio, pareggio 1-1 del Messina al Franco Scoio contro la Casertana nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie C. I gol nella ripresa, vantaggio dei giallorossi con un autorete di Anastasio e pari di Damian. Vediamo. Il derby di Zemallandia tra Giacomo Motica e Vincenzo Cangelosi, ex allievi del tecnico Boemo, finisce in parità e il Messina deve rinviare i suoi propositi di rilancio dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Sorrento. La Casertana conferma di essere al momento la squadra col maggior numero di pareggi, ben 5 in 7 giornate, dopo quello al Franco Scoio. Nel primo tempo meglio i campani che hanno colpito un palo con Curcio, mentre nell'altra metà campo è toccato a Venturi, esibirsi in parate decisive su Emmausso e Plescia. Meglio il Messina invece nella ripresa e vantaggio al ventunesimo con Ragusa che è entrato in campo 6 minuti prima sull'invito di Ortisi, calcia di sinistro ma sulla traiettoria decisiva la deviazione di Anastasio che spiazza Venturi. Il guardalini alza la bandierina per un fuorigioco attivo di Plescia sul tocco di Anastasio, ma l'arbitro si assume la responsabilità della decisione e convalida la rete. Il Messina, come già accaduto con Cerignolo e Turris, non riesce a gestire il vantaggio e lo stesso Anastasio si riscatta al minuto 32 e taglia l'intera difesa avversaria, con manette tropea fuori posizione, smarcando Damianne per il più classico dei gol dell'ex. Con sei punti e una partita da recuperare a Taranto, giallorossi in zona play-out e domenica arriva in Sicilia il Giuliano per un altro incrocio salvezza. Il Catania domenica rende visita alla capolista e non avrà il sostegno del suo pubblico. Etnei in cerca di un risultato importante per rendere meno tentennante l'avvio di campionato. Per il momento recupera solo Rizzo. Marco Carli. In casa della Juve Stabia non ci saranno tifosi del Catania, provvedimento già conosciuto da tempo e ora ufficiale. Il prefetto della provincia di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. Un fattore per una squadra rossa-azzurra che a Castellamare avrà altri ostacoli da superare. L'incontro con la capolista, prima di tutto, la Juve Stabia finora non ha mai perso e ha raccolto quattro vittorie e tre pareggi. L'ultimo martedì a Brindisi. 1-1 il punteggio finale con la squadra campana passata in vantaggio e subito rimasta in dieci per l'espulsione di Romeo. Poi, dopo il pareggio del Brindisi, l'altissimo portiere Thiam, 2 metri e 2 centimetri, ha parato il rigore che poteva costare la prima sconfitta in campionato. Se aver avuto due giorni in meno per preparare la sfida del menti, spostata appositamente dal sabato alla domenica, può avere un peso per i campani, lo dirà il campo. Di certo, la squalifica di Romeo non è da poco, ma il Catania deve guardare a se stesso. Le assenze purtroppo ci saranno ancora. Rizzo è pronto a tornare a disposizione. Si verificano le condizioni di Dubiscas, per il resto si dovrà ancora attendere. Livieri svolgerà degli esami per capire se rientrare in gruppo. Rapisarda tornerà a fine ottobre. Probabile dunque un 11 simile, se non uguale a quello dell'ultima partita, visto che Bocic deve ancora scontare un turno di squalifica. E se in casa il Catania non decolla, in trasferta finora c'è stata la prova in colore di Monopoli e la fantastica vittoria di Caserta. I rossazzurri hanno dimostrato di soffrire chi si chiude e di giocare meglio con chi lascia spazi. La Juve Stabia in casa potrà concederne un ulteriore motivo per sperare e per dare un senso diverso alla stagione in vista di un tour de force che fra fine ottobre e inizio novembre, il recupero col brindisi dovrebbe giocarsi giorno 1, vedrà il Catania in campo praticamente ogni tre giorni. La palla a volo, Farmitalia-Saturnia che si appresta all'esordio in Superlega, ha presentato il nuovo allenatore Cesar Douglas Silva. Il brasiliano ha preso il posto di Valdo Cantor, esonerato qualche giorno fa. Grande soddisfazione essere qua, voglio approfittare al massimo. Da questa mattina abbiamo iniziato già a lavorare, sempre cercando di chiedere una parola a quelli che sono già qui da un po' di tempo anche per darmi già un contributo per iniziare a conoscere tutti gli aspetti che sono importanti per svolgere un bello lavoro. Ai ragazzi chiederò sempre di essere molto disciplinati, credo che è una cosa che loro sono già naturalmente, di quelli che io già conosco. La determinazione per svolgere il lavoro in allenamento e poi portare questo giorno della partita, quando scendiamo in campo. Sono due cose semplici che secondo me loro hanno già e non sarà difficile di vedere proprio queste caratteristiche, questi aspetti dentro di campo. E per stasera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie a tutti.